Grazie a tutti. Ci parlerà dell'autismo dalla genetica all'epigenetica. Allora diciamo subito che in 20 minuti introdurre l'epigenetica non è un compito facilissimo, io cercherò di farlo. Credo che la relazione che mi ha immediatamente preceduto abbia già posto moltissimi problemi cui in qualche modo speriamo che l'epigenetica possa dare almeno parzialmente chiarimenti. Il fatto che ci sia un incremento o meno, adesso vedremo un pochino, probabilmente c'è sicuramente l'incremento di diagnosi che c'è negli Stati Uniti, non è un incremento reale, su questo credo che stiamo tutti d'accordo. Credo che l'incremento degli disturbi del neurosviluppo, delle patologie neuropsichiatriche vada messo insieme, adesso vedremo perché, credo che vada inserito in un contesto ancora più ampio che quello di una transizione epidemiologica più generale, per cui stanno aumentando per esempio patologie endocrinometaboliche come l'obesità, il diabete secondo giovanile, i tumori infantili, le patologie di tipo immunomediate, per esempio l'asma, le allergie che sono di primo tipo, ma anche le patologie autoimmuni di secondo o terzo tipo di gel e cums. Perché vanno messo insieme? Perché probabilmente, ed è stato giustamente ricordato, la genetica classica, quella di Watson e Crick, non quella di Mendel, quella del DNA programma genetico che ogni tanto sbaglia e dà patologie, è assolutamente, si sta rivelando sempre di più, proprio sul piano molecolare, non solo riduzionista e quindi limitante, ma soprattutto fondamentalmente sbagliata. Il DNA è solo una piccola parte di un gioco molto più complesso, è sempre più evidente che l'epigenoma, cioè il software del genoma, è un network molecolare, adesso cercheremo brevemente di accennare, è estremamente complesso, molto interattivo con l'ambiente, per cui le informazioni che soprattutto nella prima fase della vita raggiungono il feto durante l'ontogenesi embrio-fetale, disturbando letteralmente il fetal programming, probabilmente agiscono a tantissimi livelli su tutta l'organizzazione del sistema, per cui l'aumento di tante patologie croniche degenerative, infiammatorie e tumorali va messo insieme. Questo personaggio che ho voluto inserire lì, anche per dare un minimo di leggerezza, se è possibile, è un discorso che invece è abbastanza complesso, vedete il più famoso spermatozoo della storia del cinema, che è Woody Allen, travestito da spermatozoo, è fondamentale, perché come vedremo abbiamo continuato anche in questi giorni a ribadire l'attenzione sulla madre, sul feto, durante l'ontogenesi embrio-fetale, i disturbi che in qualche modo sono collegati, guardate che anche questo personaggio ha un suo, facciamo un po' di parcondicio anche in questo, probabilmente l'esposizione del maschietto durante l'adolescenza, per esempio, potrebbe avere un ruolo fondamentale. Allora, vediamo molto rapidamente, guardate l'aumento degli studi di epigenetica negli ultimi anni, questo già la dice lunga, si è parlato di epigenetica dagli anni 40, un'idea, non posso entrare nei dettagli, di un grande genetista inglese, Wardington, che aveva cominciato a dire probabilmente quello che noi chiamiamo DNA, geni, eccetera, hanno molto a che vedere con un landscape epigenetico, cioè con un ambiente che va a condizionare il modo in cui questi si programmano, si esprimono, eccetera, per 60 anni se ne è parlato e basta, poi si è cominciato a fare, ecco, questo è fondamentale, l'epigenetica è biologia molecolare, cioè la storia per cui spesso su internet leggete il cervello condiziona i geni, non è questo, è biologia molecolare, se non si parla in termini specificamente, se vogliamo anche riduzionisti e il contempo sistemici, non si può capire quello di cui stiamo parlando. Ecco, da tre anni a questa parte, guardate questo rapidissimo aumento degli studi. E guardate com'è interessante quest'altro dato, su PubMed, gli studi che stanno aumentando in modo molto simile sono quelli sul cervello, vedete nel giro di 15 anni si è passato da 30.000 studi in un anno, 30.000 papers con brain nell'abstract a 76.000. C'è un nesso epidemiologico tra questi due dati e tra l'altro qui non c'è ma anche sull'obesità, sul diabete. Allora che cosa cambia? Se dalla genetica, dall'idea del DNA che nelle nostre cellule è una volta per tutte e dal programma genetico, se c'è un errore più o meno casuale, vengono le patologie, si passa a un'idea completamente diversa per cui, perdonatemi questa slide che è pessima ma comunque è un indice e ve la faccio vedere come tale, è utile comunque secondo me. Sono sette parole chiave che però sono fondamentali per capire quello che stiamo dicendo. Cosa cambia se dall'idea della genetica di Watson e Crick del DNA programma una volta per tutte si passa all'idea per cui invece il DNA è solo il dizionario, è una piccola parte del gioco, esiste un software molto più complesso che è diverso in tutte le nostre cellule perché adesso vediamo come si va formando e quello è interattivo con l'ambiente, capite che cambia tutto perché significa che l'ambiente non è un determinante secondario di salute come è stato per 30-40 anni ma è un determinante fondamentale di salute e di malattia, tutto lo sviluppo fisiologico e patologico dell'organismo è profondamente condizionato da quello che sono le informazioni che dà l'ambiente, catene alimentari, inquinamento atmosferico ma anche in positivo, tutto quello che noi diciamo letteralmente possiamo far sentire a quel bambino, io dico proprio in positivo, in modo creativo nella prima fase della vita, condiziona positivamente il suo fenotipo, il suo programming. Ecco la terza parola chiave, forse la più importante di questo contesto, fetal programming. Sul piano dell'epigenetica, fetal programming non è un termine generico, il feto si va programmando durante nove mesi, questo lo sappiamo da sempre, ma è un termine specifico ed è il punto chiave, poi tornerò con due slide che secondo me sono le più importanti di tutta questa relazione. Che cosa fa il feto in nove mesi? Riceve informazioni, forma alcuni trilioni di cellule, perché noi siamo questo, che partono tutte dallo zigote e che sono totalmente diverse, vedremo in una maniera fino a poco tempo fa assolutamente impossibile anche da prevedere, proprio perché le informazioni le trasformano letteralmente, da un'unica cellula se ne formano alcuni milioni di cellule multipotenti e poi alcuni miliardi, alcuni trilioni di cellule differenziate. Questo è lo sviluppo ed è condizionato da tutte le informazioni in positivo e in negativo che noi diamo al feto. Capite l'importanza di questo discorso? In tutte le teorie dei sistemi, in tutte le teorie della complessità, si dice piccole variazioni nella prima fase possono condizionare l'intero sviluppo del sistema. Qui è proprio così, l'epigenetica spiega questo. Tutto quello che avviene, io alcune volte lo dico scherzando, ma è interessante, credo. Io non sono nato il 27 marzo del 1953, come c'è scritto nei miei documenti, io sono nato il 27 giugno del 1952. E quei nove mesi, tra le due date, sono i più importanti della mia vita sul piano biologico. Noi l'abbiamo dimenticato, noi pediatri almeno, per molto tempo, l'abbiamo dimenticato. E non è un discorso puramente teoretico, perché in quella fase, come è stato detto ieri, come è stato ribadito adesso, c'è il massimo di developmental plasticity. Ecco la quarta parola chiave. Ma la plasticità dello sviluppo significa a tutti i livelli, a livello di sistema, a livello di tessuto, a livello di cellula, a livello di molecole, il genoma è plastico ed è molto plastico all'inizio della vita e poi diventa sempre meno plastico. Questa è la differenziazione delle cellule e questo è quello che avviene anche per la nostra vita e dov'è la massima plasticità nel sistema nervoso centrale. Se riesco vi faccio vedere uno studio di pochi giorni fa, 2 ottobre, su Science, che dimostra che non è solo l'epigenoma che è plastico, ma è lo stesso genoma dei neuroni. I neuroni hanno centinaia di mutazioni che non sono per niente casuali. Sta cambiando la biologia molecolare in diretta. Le sequenze di 30 miliardi di neuroni cambiano in diretta mentre noi parliamo. Io parlo e quello che succede è che le vostre sinapsi si ricollegano in maniera diversa, si creano nuovi circuiti, stanotte dormite, eliminate tutte quelle che reputate inutili e conservate quelle che reputate utili delle idee che vi ho dato. Le idee sono le mutazioni del cervello. E questo cambia in diretta e cambia sul piano genetico addirittura oltre che epigenetico. Non so se oggi riusciamo a capirlo fino in fondo, ma è fondamentale. Quindi capite l'importanza di dare le informazioni corrette a quel bambino. Soprattutto all we need is love. Cioè è vero questo. Se non c'è amore, se non c'è affetto, ma adesso ve lo faccio vedere sul piano epigenetico cosa cambia. Se non c'è amore, se non c'è affetto. E per finire, tutto questo nel tempo sta cambiando l'intero paradigma non solo della biologia teoretica, non solo della biologia molecolare, ma addirittura della biologia evoluzionistica. È l'intera specie che sta cambiando. Qualcuno ha definito l'obesità come la prima trasformazione del fenotipo di una specie. L'obesità non è un accumulo di grassi nel tessuto adiposo. È un'endocrinopatia sistemica in cui si sprogrammano ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo e tessuto muscolare. Vogliamo cercare di capire che probabilmente tutto questo ha le stesse basi nella prima fase della vita. Patatine fritte, McDonald's, tutto quello che vogliamo. Sì, ma che cosa stanno slatentizzando questi trigger? Questo è il problema. Stanno cambiando il programma? Noi sappiamo, e questi sono i dati epidemiologici ancora una volta americani, da noi probabilmente la situazione è ancora meno drammatica, che stiamo di fronte, ed ecco la settima parola chiave, forse la più importante per capire il contesto generale, transizione epidemiologica del XX secolo. Cosa significa? Significa che negli Stati Uniti d'America, per esempio, e lo sappiamo almeno dagli anni 2000-2001, siamo passati da una prevalenza di obesità, grosso modo del 10-12%, in 30 anni a una prevalenza del 34%. Stati Uniti d'America, speriamo che non si verifichi qualcosa di simile anche da noi, perché è uno tsunami di queste patologie, qualsiasi sistema sociosanitario non lo regge, per cui dobbiamo cominciare a fare adesso qualcosa. Ma questo non riguarda gli adulti, riguarda in particolare i bambini. Noi negli anni 80 non vedevamo un bambino obeso, io sono pediatra, almeno ho fatto il pediatra per i primi 20 anni, ora mi occupo di questo, ma quando vedevamo un bambino obeso noi pensavamo alla Prader-Willi. Io non ho visto un bambino obeso in 10 anni, al Mayer, a Firenze. Adesso circa 10 bambini su 100 sono obesi. Obeso significa, per esempio, che hanno un'iperplasia del tessuto adiposo, per cui hanno il doppio di adipociti, e hanno una flogosi precoce del tessuto adiposo con macrofagi attivati, eccetera, eccetera. E tutti i sistemi recettoriali che funzionano meno, e le citochine che sono attivate, eccetera. Allora, capite che di fatto tutto questo è da capire che il diabete secondo ai tempi in cui noi facevamo, almeno io, medicina, eccetera, era patologia della terza età, e negli Stati Uniti sta diventando patologia dell'adolescenza, e da noi comincia a diventare pericolosamente sempre più giovanile. Tutto questo dobbiamo metterlo insieme, se no non lo capiamo. Allora, il dato che ci preoccupa di più, e anche questo non circola, spesso si pensa che non bisogna allarmare, non bisogna allarmare, però bisogna dare i dati, come detto giustamente la collega dell'istituto, epidemiologici, chiari. Questo è il più grande studio epidemiologico fatto dall'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro, 25 anni di studio in Europa, su 63 registri tumori, 160.000 casi di tumori infantili, l'aumento maggiore è stato nel primo anno di età. Perché è importante? È un aumento quantitativo, ma anche qualitativo. È importante, primo, perché il vecchio modello delle mutazioni stocastiche del DNA che si vanno accumulando funziona se noi pensiamo che nell'anziano aumenta il cancro, non funziona se aumenta un anno. Quale accumulo di mutazioni stocastiche ci può esserci a un anno? E allora cos'è che cambia? L'esposizione trasplacentare o addirittura gametica, quella che ci preoccupa? Tanto più, e non avrò il tempo di dirlo, certo oggi, tanto più che un bambino su 100 oggi nasce con una traslocazione tipica della common, della leucemia common, e non è quella che sta aumentando di più. Un bambino su 100 nasce con la traslocazione tipica della common, uno su 12.000 fa una leucemia. Allora probabilmente quelle traslocazioni non sono aberrazioni cromosomiche del DNA, sono marker di un'esposizione a qualcosa che disturba il fetal programming. Tanto più che quelli che stanno aumentando non sono le common, che in qualche modo curiamo sempre meglio, per grazia di Dio e per capacità di questa scienza, alcune volte un po' distrattata o criticata anche in maniera eccessiva. Sta cambiando l'incidenza dei tumori rari, per esempio il neuroblastoma, che è relativamente infrequente rispetto ad altri, i tumori solidi nell'infanzia sono più rari, ma stanno aumentando il raddomiosarcomi, i linfomi, i linfomi nel bambino di 1-2 anni, i linfomi Hodgkin, che non si erano mai visti nel bambino di 1-2 anni, a un ritmo del 4,5% nel primo anno di età, quindi doppio rispetto a questo che è già preoccupante. Vogliamo dirci queste cose? Allora capiamo, dobbiamo, e questo lo dobbiamo vedere in positivo, dobbiamo ridurre l'esposizione materno-fetale, perché altrimenti non potremo interagire positivamente rispetto a tutta questa transizione epidemiologica. Questi sono stati i dati del CDC di Atlanta, sono stati già molto ben illustrati, sono dati di diagnosi. È chiaro che se c'è un aumento ipotetico del 2.000%, stiamo parlando di qualcosa che ha a che vedere con maggiori capacità diagnostiche, maggiori sensibilità, non è vero che probabilmente quei dati sono del tutto reali, per tutte le considerazioni che sono state fatte, ma un aumento del genere significa che è un aumento significativo, comunque c'è, non è solo un problema di sensibilità, ed è interessante se noi andiamo poi a scorporare i dati, guardate qui, in 30 anni l'aumento non c'è stato, come per l'obesità non c'era, attorno agli anni 80-90 comincia e diventa qualcosa di simile. non è reale quest'aumento, però va preso in considerazione seriamente, soprattutto per i bambini più piccoli, tanto più che, ancora una volta, dati solo americani, noi giustamente dobbiamo avere prima o poi dati epidemiologici italiani, altrimenti continuiamo a parlare sulla base di una società troppo diversa, però negli Stati Uniti si segnalano grosso modo un bambino su sei con disturbi del neurosviluppo. dati lontani probabilmente della nostra realtà, ma è vero che non c'è classe delle nostre scuole in cui non ci siano due o tre bambini che cominciano ad avere questo tipo di problemi e se noi andiamo sulle patologie neurodegenerative, c'è un allarme dell'Inghilterra di qualche giorno fa, l'Alzheimer è questo l'aumento. Le patologie neurodegenerative non sono, è lo stesso discorso in parallelo che per il cancro. Abbiamo lungamente pensato, l'Alzheimer è patologia da accumulo di beta-amiloide e perché aumenta l'età media. È solo in parte vera, perché nelle autopsie di 40 anni fa non c'era l'accumulo di beta-amiloide come c'è adesso nell'ippocampo e nel lobo frontale. Quindi non è esattamente un dato inevitabile da aumento dell'età. È qualcosa di diverso. Anche qui ci sarebbe molto da dire. Se voi andate a Città del Messico, c'è un grande studio epidemiologico che dimostra che i cani di Città del Messico a tre anni fanno l'Alzheimer e sono pieni di metalli pesanti e di particolato ultrafine. Quindi capite che tutto questo è evitabilissimo. Questo è l'importante. E stiamo dicendo è allarmante tutto questo, ma è anche evitabile. Anche perché tutto ciò che è genetica classica è una condanna per come viene vista. Cioè c'è la mutazione, c'è niente da fare, diagnosi e terapia. L'epigenetica dimostra che non è per niente così. Si può fare enormemente se riduciamo l'esposizione nella prima parte della vita. Allora su questa base, e sono i dati che in parte anche qui sono stati giustamente introdotti, quello che sta cambiando nelle valutazioni che noi pensavamo fino a poco tempo fa che quando c'è una familiarità di una patologia, soprattutto un aumento nei gemelli monozigoti, eccetera, c'è una genetica di base. No, è sempre più chiaramente sono gli studi più recenti che dimostrano come l'ambiente uterino probabilmente condiziona epigeneticamente molto di più il gemello monozigota dell'eterozigota e l'eterozigota più dei fratelli. Noi abbiamo ecceduto nella valutazione della genetica anche perché non sapevamo tutto questo. Adesso lo sappiamo. la cosa più incredibile è che le copy number variation che sono genetica dell'autismo aumentano nel bambino autistico notevolmente, sono piccoli segmenti di DNA che sono alcune volte amplificati più raramente dei leti, cancellati, ma aumentano e qui comincia a comparire quello strano figura della prima slide, nello sperma del padre. Quindi c'è un'esposizione probabilmente ancora più paterna che materna qualcosa che crea queste anomalie che poi si trovano nel bambino. Sono de novo queste famose copy number variation. La cosa più incredibile e qui si entra veramente come è stato detto varie volte ieri guardate smettiamola di considerare qualcosa è psicologico, qualcosa è organico, qualcosa è psichico, qualcosa è tutto psichico perché è tutto biochimico, perché è tutto organico, perché è tutto è la stessa cosa, sono modi diversi di dire le stesse cose perché un bambino è esposto ad abusi o a sofferenze nella prima parte della vita è pieno di marcature epigenetiche e ovviamente soffre e sarà tutta la vita ansioso per questo e se noi andiamo a vedere, troviamo, vediamo se avremo il tempo di vederlo, le stesse marcature epigenetiche del recettore dei glucocorticoidi in alcune aree del cervello che noi troviamo nei soggetti che muoiono per suicidio. Capite? Quello che noi provochiamo nel topino, in laboratorio, stressando la madre in gravidanza, nei topini che non ricevono amore perché di fatto la madre è troppo stressata, troviamo le stesse marcature epigenetiche nel suicidio che ha subito abusi. E la cosa più incredibile è che tutto questo è transgenerazionale, ci sono studi epidemiologici che dimostrano come l'età avanzata dei nonni è significativa, ma che addirittura, e questo è veramente incredibile, l'esposizione materna ad abusi nella prima infanzia è un dato anamnestico fondamentale. Cioè il fatto che la madre abbia subito abusi nella prima infanzia è uno dei dati anamnestici che sta emergendo nel bambino autistico. Capite? Cioè le marcature epigenetiche alcune volte sono addirittura transgenerazionali. Allora, tutto questo cosa significa? Ecco cos'è l'epigenetica, per questo dico trattiamola con un po' di riguardo, perché altrimenti si pensa vabbè sono nuove idee, perché c'è stato qualcuno noto biologo italiano che sulle scienze qualche giorno fa, un mese fa, non faccio nomi e cognomi, lo faccio? Non è corretto, però in segreto ve lo dico, che ha detto, che ha detto, vabbè sono tutti studi sperimentali sui topi, non è vero come avete capito, perché si è visto che le stesse marcature che c'è nel topino in laboratorio le troviamo nel suicida, quindi o non lo sa, ovvero, e questo è posizione ideologica e non si devono avere in campo scientifico le posizioni vanno date soltanto a posteriori e sui dati e sono sempre da verificare e da falsificare e non sono mai definitive, se no non si fa scienza. Allora, facciamo un minimo il punto sulla situazione, il vecchio schema era la spirale del DNA che c'ha dentro i geni, sì, è una piccolissima parte, noi in tutto abbiamo 24.000 geni, anzi, veramente l'ultima stima è di 19.700 che sono grossomodo poco più di quelli della drosofila melagonogaster che è il moscerino della frutta e non molti di più del canorabditis elegans che è un vermicello minuscolo, questi sono i nostri geni, allora capite che è il dizionario e che non è così fondamentale, quello che diventa fondamentale è tutto questo sistema che è continuamente marcato in diretta e se arriva l'ormone correttamente va a marcare il DNA e soprattutto le code degli stoni e adesso entriamo nei dettagli in maniera corretta, ma se arrivano i metalli pesanti e gli interferenti endocrini capite che fa saltare tutto un meccanismo che ha milioni di anni, per questo non è da sottovalutare tutto questo. allora il più grande almeno il primo grande lavoro vado veramente rapidamente per tappe ma sono necessari che aveva fatto capire almeno a molti di noi tutto questo lo ha fatto su Nature Biotechnology tra l'altro quindi sulla rivista della biologia cosiddetta riduzionista un grande biologo molecolare che è Richard Stroman guardate cosa scrive qui Stroman I geni non lavorano da solo il DNA è solo una molecola ma i geni hanno bisogno che qualcosa gli dica quando, come, quanto devono produrre e questo glielo dice la cellula non solo glielo dice il microambiente non solo glielo dice l'ambiente cioè la direzione il flusso dell'informazione è al contrario è dall'esterno sul genoma e il genoma ubbidisce perché non può che fare questo il DNA è solo un esecutore e tra l'altro è molto simile in tutti noi quindi c'è un'informazione che viene dall'esterno environmental signals è una che è intrinseca al DNA ed è il continuo scambio di queste informazioni che fa il fenotipo il fenotipo non è programmato nel DNA il fenotipo cambia a secondo del fatto che arrivino campi elettromagnetici sostanze chimiche virus più o meno naturali qui ci sarebbe moltissimo da dire dopodiché questo epigenoma questo software è continuamente modulato ed ecco le tre slide più importanti di tutto questo la più importante le più importanti sono le prossime guardiamole un attimo con calma scusate si è tolta ma so di avere poco tempo no no va bene ma sono abituato guardiamo con attenzione quello che siamo noi noi siamo questo noi siamo un clone cellulare di trilioni di cellule che partono tutte da uno zigote da un'unica cellula che ha lo stesso DNA come tutte le cellule che ne derivano trilioni di cellule giusto? allora come mai ci sono 200 tipi cellulari diversi nel nostro organismo ci sono le cellule della pelle dell'epitelio ci sono i neuroni guardate la differenza enorme tra un neurone e linfocita qui è la potenza dell'epigenoma questi hanno lo stesso DNA capite come è superata l'idea che il DNA sia il programma che definisce il fenotipo perché quello che diciamo per la cellula vale anche per l'intero organismo che cosa è cambiato tra un linfocita e un neurone? la sua vita cioè linfocita nasce da una cellula totipotente che è praticamente identica a quella da cui nasce il neurone la differenza è che il linfocita passa attraverso il midollo facciamo il linfocita B che è più semplice viene educato nel senso che viene silenziato il 99% del suo genoma perché non gli serve lui deve fare anticorpi allora si selezionano tre sequenze sui cromosomi 2, 14 e 22 che verranno ricombinate in maniera diversa a seconda dell'antigene che arriva quello è il linfocita il linfocita ha il 99,5% del genoma che viene metilato perché non gli serve tutti i linfocitini bambini che nascono da quel linfocita sono così questo è un clone cellulare tipico guardate la differenza enorme che è invece un neurone perché? perché il neurone migra dalle zone di neurogenesi che sono nella parte profonda attorno alle zone ventricolari sulla corteccia e comincia a ricevere informazioni di tutti i tipi il bambino nasce non ho il tempo di farvelo vedere ma è incredibile nasce già con grosso modo 30 miliardi di neuroni in posizione e ognuno di questi ha 5.000 e alcune volte 10.000 sinapsi questo è il neurone e sulla base di che cosa? delle informazioni che gli abbiamo dato in quei due mesi finali in cui c'è la sinaptogenesi i neuroni hanno collegato spina dendritica ogni informazione che arriva spina dendritica sinapsi spina dendritica eccetera capite? allora che cos'è le patologie di spettro autistico i disturbi del neurosviluppo e sempre più chiaramente le patologie psichiatriche maggiori perché fra l'altro le copy number variation di cui parlavamo prima si trovano identiche nella schizofrenia e nella depressione che cos'è? è il disturbo della sinaptogenesi cioè questi bambini vengono disturbati e ancora una volta veramente basta con la storia dei vaccini soprattutto durante la vita fetale nella seconda fase della vita fetale quando si ha la costruzione delle reti neuronali vengono disturbati in maniera significativa da alcuni anni a questa parte da una serie enorme di diciamo stressors in senso lato essenzialmente inquinanti ma non soltanto e questa rete si forma in maniera abberrante abberrante ecco qua il personale allora il Sanger Institute io la faccio vedere sempre perché almeno allentiamo un po' anche perché queste quattro scimioni sono quasi identici sul piano genetico hanno 98,7% di DNA codificante codificante uguale e lo dice il Sanger Institute allora cosa cambia? cambia che noi abbiamo in realtà due progetti dentro di noi dentro le nostre cellule uno si chiama genoma è praticamente identico è la DNA è identico in tutti noi tranne alcuni polimorfismi e mutazioni che predispongono condizionano d'accordo ma è una piccola parte del gioco poi c'è una parte invece sì fondamentale completamente diversa in tutti noi che è il frutto di quell'esperienza che abbiamo fatto dal primo giorno di vita in poi quella si chiama epigenoma è ontogenesi nove mesi in quei nove mesi facciamo la differenza se diamo le informazioni corrette tutta questa diciamo questo progetto viene a essere svolto e attuato in maniera corretta altrimenti viene danneggiato ecco come funziona il cervello del bambino il cervello del bambino si forma al ritmo di 250.000 neuroni ogni minuto capite? fate un po' il calcolo se ne formano dicevamo prima 30 miliardi migrano dalle zone più profonde del cervello sulla corteccia e vengono disturbati continuamente da particolato oltre fine metalli pesanti e campi elettromagnetici è importante questo c'è uno studio su Nature Reports su Scientific Reports di Nature che dimostra che i campi elettromagnetici interferiscono sulla migrazione neuronale al punto tale che un'esposizione non eccessiva ma continua a campi elettromagnetici nella topina gravida induce un cambio di sinapsi per cui si rallenta la formazione delle sinapsi glutammatergiche cioè quelle eccitatorie questo è importante per il futuro perché altrimenti non capiamo che bisognerebbe cominciare a fare un counseling diverso alle mamme nella fase iniziale soprattutto nella fase della fine dell'ontogenesi embryo fetale nei primi due anni di vita perché nei primi due anni di vita avviene 90% della sinaptogenesi dell'amelinizzazione delle fibre eccetera eccetera dopo quanto c'ho? 5 minuti? abbiamo meno posso? ditemi voi io non voglio neanche esagerare allora volevo dire se passiamo da ditemi voi fra quanti minuti devo ammettere facciamo 5 minuti no va bene facciamo 4 no 4 va bene dicevo allora dicevo si nasce con circa 5.000 sinapsi in posizione nel giro di due anni se ne raggiungono 15.000 poi comincia il pruning come sapete probabilmente ancora più importante sul piano della costruzione delle reti neuronali vanno sfoltite perché la gran parte di queste sinapsi sono inutili o quantomeno non concedono a questo enorme complesso questa foresta dendritica vera e propria di funzionare bene il pruning avviene esattamente tra i due anni e l'adolescenza con alcuni picchi fondamentali questa ripulitura delle sinapsi allora in pratica quali sono le parole chiave a questo punto esiste un software ed esiste un hardware a livello di genetica semplicisticamente si dice il DNA è l'hardware l'epigenoma è il software il software è più importante dell'hardware come nei computer e così nel cervello nel senso che esiste un hardware che possiamo chiamarlo cablaggio ancestrale che è molto simile in quattro scimpanze che abbiamo visto prima e che è quasi identico in tutti noi per cui tutti quanti noi abbiamo le stesse aree motoria sensoriale temporale occipitale giusto questo è geneticamente controllato questo è veramente DNA classico ma invece esiste la costruzione del connettoma cioè di tutte queste reti neuronali che è in buona parte epigeneticamente controllata quindi questo è l'hardware e questo hardware in qualche modo si è formato nei milioni di anni però anche qui con una notevole differenza perché c'è un salto quantitativo enorme tra lo scimpanzee di sinistra e quello di destra non è detto che quello di destra usi meglio il software però il suo hardware è cresciuto a dismisura in pochi milioni di anni in sei milioni di anni e perché è cresciuto così qual è il determinante più forte la cultura cioè è sempre più chiaro che la cultura ha fatto la differenza questi due hanno la stessa mimica facciale per una serie di Sanger Institute non sono stato io guardate come interessante questo studio dimostra che la vera differenza tra questi tre cuccioli non è nel modo in cui si orientano nello spazio-tempo in cui gestiscono gli oggetti è nei rapporti sociali è la capacità di comunicazione che è diventata enormemente superiore ed è congenita ed è in parte quindi tramandata il fatto che il bambino posto sul ventre della mamma faccia quel movimento in tutti i bambini è perché c'è una struttura che è diventata genetica e qui è la Mark scusate ma lo dico tra parentesi non è Darwin non è selettivo tutto questo questo è probabilmente che una parte di memoria si va accumulando la cultura ha un ruolo fondamentale molto più di quanto pensavamo questa rete cosiddetta software è fondamentale in questo senso la neurogenesi continua per tutta la vita questo è l'unico errore fatto dal più grande anatomo fisiologo dell'Ottocento che era Ramon Hicayal se noi andiamo a vedere e diamo un po' di informazioni corrette a un topino il topino si orienta bene nello spazio-tempo e qui si salva rapidamente se noi non gliele diamo questo continua a perdersi nel labirinto la cosa interessante e questa è indiretta il modo in cui possiamo influenzare positivamente la costruzione di una mente è che questi topini se noi tristemente lo dico ma si fa facciamo l'autopsia di questi topini che sono vissuti in questa scatolina di quelli che hanno avuto un minimo di giostra di quelli che hanno avuto anche i labirinti i tre cervelli sono diversi questo è molto più complesso di questo e questo addirittura è infinitamente più capite? l'ambiente come costruisce questo lo sappiamo da 30 anni ma adesso lo possiamo dimostrare con un'evidenza incredibile perché vediamo che rapidamente le aree cerebrali vengono a essere meglio collegate se c'è un'informazione continua corretta eccetera guardate i tassisti di Londra di New York che hanno il cervello più sofisticato per quanto concerne l'orientamento spazio-temporale questi qui sono costretti tutti i giorni a orientarsi in un labirinto di via eccetera non fanno l'Alzheimer il tontone è pericoloso voglio dire può essere utile ma se ci abituiamo a usare sempre il tontone è un disastro no? e per finire adesso veramente mi prendo l'ultimo minuto la neurogenesi è bloccata dall'alcol per esempio bloccata letteralmente se c'è qualcosa che attiva la neurogenesi la sinaptogenesi in modo corretto è la musica ma la musica non fatta sporadicamente è fatta nei primi due o tre anni di vita a cominciare se il bambino a tre o quattro anni fa un'ora due ore di musica ha un cervello e lo dice Albert Einstein che diceva quando era a scuola le insegnanti mi avevano qualificato di è un po' scemo non ce la farà mai poi mia madre mi regalò un violino e mi si aprì l'universo adesso non so se è così semplice però è fantastica questa storia non ho il tempo di fare i disturbi del neurosviluppo in quanto tale vi faccio vedere solo 4-5 slide velocemente guardate come nelle forme più gravi è povera la sinaptogenesi per esempio nella Rett syndrome guardate che la Rett syndrome è un gene particolare che viene a essere bloccato per mutazioni o per epimutazioni ed è il MECP2 il MECP2 è il gene che codifica per la proteina che permette o meno la metilazione dei geni è epigenetica nella sua manifestazione perfino per l'X fragile è così l'X fragile ha una manifestazione clinica più o meno grave a secondo di quante sono le marcature epigenetiche cioè le metilazioni del gene più o meno disturbato e questi signori nel 2006 un epidemiologo e un pediatra hanno dimostrato prima lo hanno dichiarato sull'ANSET è importante che sia l'ANSET ovviamente è silent pandemic forse c'è un inizio di pandemia silenziosa di disturbi del neurosviluppo dobbiamo stare attenti hanno quantificato dopo sette anni sono tornati sull'ANSET neurologi e hanno detto gli studi più convincenti riguardano metalli pesanti e pesticidi ma guardate anche pesticidi in casa si accumulano via via da una generazione all'altra queste sostanze si trovano in tutti i cordoni ombelicali cioè in tutti gli studi americani e tedeschi fatti in Italia ancora c'è pochissimo tutte le mamme nella loro placenta e nel cordone ombelicale hanno dalle 200 in su molecole mutagene procancerogene eccetera giustamente è stato mostrato come nel terzo trimestre che è stato poco indagato per molto tempo non si è indagato abbastanza perché adesso questa è quella famosa coorte che è venuta fuori nel 2013 sul Giamma per cui c'è un raddoppio grossomodo dei casi di patologie di spettro autistico nelle aree delle grandi città più inquinate con formazione della neurogenesi del collegamento delle sinaptogenesi disturbata questo è lo studio di città del Messico dei cani con l'Alzheimer di cui dicevo prima anche qui la classica critica è stata va bene sono cani sono molto esposti al particolare oltre fine metalli pesanti dopo sei anni è stato fatto uno studio sui ragazzi sui giovani morti per causa accidentale a città del Messico hanno trovato esattamente le stesse cose e questi erano ragazzi sani allora il problema qual è il problema è questo è quello studio su Scientific Reports che vi dicevo che l'esposizione precoce in utero a campi elettromagnetici disturba la sinaptogenesi tutto il resto lo sappiamo le citochine eccetera ecco l'ultimo è questo lo stress materno-fetale perché è interessante perché adesso finalmente vi faccio vedere Woody Allen nella sua veste di personaggio più o meno pericoloso perché questo studio è interessante questa è una mia amica di Lausanne che è un po' sadica che fa questo tipo di studi lei prende le topine in gravidanza lei immerge nell'acqua fredda perdonatemi ma si fanno anche queste cose si fa di peggio nel mondo comunque si fa anche questo questa topina non è in grado di dare affetto a questi topini perché è troppo stressata durante l'epoca iniziale della gravidanza questi topini nascono e crescono ansiosi per tutta la vita perché viene marcato questo gene viene metilato e bloccato e non funziona più se questi topini vengono affidati a una topina che non è stata stressata recuperano rapidamente ma bisogna fare nella primissima fase della vita la cosa interessante è che vi dicevo che il meccanismo epigenetico è lo stesso nei suicidi il topino che è così per tutta la vita è esattamente quello che succede ai bambini descritti a suo tempo da balbi e altri negli orfanotrofi eccetera e grosso modo quello che sta emergendo eccolo qua che anche lui ha un suo ruolo è lo studio lo studio più incredibile che lo dimostra perché è veramente incredibile the sins of the father ecco un pochino diciamo è nature non è topolino che fa questa illustrazione è questo questo è uno studio incredibile qui vedete l'immagine di questo personaggio che nessuno di noi ricordava che è la Mark non è Darwin perché è importante perché se si espone questo topino maschio ha aminofeno ha un odore cattivo e ha una scossa elettrica lui per tutta la vita ogni volta che sente quello odore trema perché ha paura ma i suoi figli i suoi nipoti pure capite la cosa incredibile cioè ma come avviene che lo sperma di quel topino viene marcato sapete perché? perché nello sperma questo è incredibile davvero c'è un recettore che è molto simile al recettore olfattivo perché lo sperma per andarsi a trovare l'ovulo ha bisogno di un recettore che poi grossomodo è quello olfattivo è pazzesco è pazzesco perché noi abbiamo un olfatto un po' ipotrofico da qualche secolo e soprattutto da quando usiamo un'immensità di profumi inutili eccetera va bene non è importante come avviene ultimo dato va bene scusate concludiamo copy number variation ve l'ho detto ecco questa vi volevo far vedere questo è pazzesco perché è del 2 ottobre nel 2 ottobre viene fuori questo studio veramente pazzesco che fa vedere come ci sono un'enormità 1500 mutazioni per neurone e sono mutazioni probabilmente fisiologiche abbiamo sbagliato tutto ragazzi probabilmente nei neuroni come nei linfociti avvengono riarrangiamenti continui nella prima fase della vita e così si ha una diversità enorme e guardate che non è stocastico perché vedete come quasi tutte sono deaminazioni dell'acitosina che dà timina non è per niente stocastico sono tutte specifiche sul piano molecolare guardate dove si vanno a concentrare proprio nella parte del cervello che usiamo di più per pensare e teoricamente per far sì di essere un po' diversi da quello scimmione di cui abbiamo visto grazie grazie a tutti